Direttore generale del Chieti Andrea Masciangelo, allora l'arrivo di Traini molto importante ma potrebbero esserci ulteriori movimenti. Una parola su questo attaccante molto bravo. Contenti di questo arrivo, sicuramente un profilo importante della categoria. Permettetemi di ringraziare il patron Trevisan e il presidente Mergiotti perché è stata una trattativa seguita direttamente da loro in primis, voluta, non semplicissima, quindi il merito vanno a loro due. Ruoli da coprire? Vogliamo vedere la squadra come si presenta. Sicuramente non ci tireremo indietro se c'è da fare qualcosa ma sempre con la nostra mentalità, quella dell'attenzione, dell'occulatezza, quindi senza andare oltre le righe. Questo vuol dire squadra per adesso completata, se ho capito bene? Per adesso diciamo che la base c'è, sicuramente è stato fatto un determinato lavoro. Ieri quindi con l'arrivo sia del portiere, che non ci ricordiamo, un portiere comunque importante perché è un fuori quota però ha fatto già un percorso. Camerlengo? Camerlengo e sia dell'attaccante, quindi per adesso le priorità sono state diciamo assecondate. Vediamo come procede e poi ripeto siamo a disposizione, sicuramente non ci tireremo indietro. Cresce la consapevolezza nella tifoseria per una fiducia per questo gruppo, per questa società che è in grado di garantire soprattutto il futuro, che è la cosa più importante di questi temi. Sul Patron Trevisa non lo conoscevo, è un grande imprenditore, molto acculturato, ha le idee chiare, fa parte del progetto medio lungo termine che ci siamo imposti, è una persona speciale, è un percorso di crescita anche per noi che gli siamo vicini e va dato merito a lui insieme al Presidente Mergiotti di tutto il processo che sta avendo il Chieti e in particolare un merito anche a lui di aver scelto una persona secondo me giovane, un giovane manager al suo fianco che sicuramente insieme potranno dare sicurezza e stabilità a una società come Chieti. In un flash un problema molto serio, addirittura si rischia di tornare all'Angelini l'anno nuovo. Da voce addirittura si sente forse gennaio, noi avevamo fatto un piano marketing importante per partire con questa società, è stato annullato, molto ovviamente dovremmo rinunciare anche agli abbonamenti, quindi sicuramente un danno per noi. Pineto è il campo sicuro che ci ha dato, abbiamo confermato e la Lega ci ha confermato, quindi su Ortona ci sono dei problemi e su Città Sant'Angelo spero di risolverli, siamo pronti anche sicuramente per i tifosi, sappiamo che ci saranno dei problemi logistici, quello poi vedremo sicuramente noi come società andremo incontro a tutti.